ciao ragazzi di sole io sono andrea bano benvenuto sul mio canale guardate un po' è ri ritornata la matizia devo muovermi che c'è grigoletto che mi aspetta per fare lezioni di metodologia e ci vediamo dopo ho detto che la matizia è ri ritornata perché l'avevamo portata dal carrozziere per fare la revisione dopodiché con quella revisione il carrozziere ha alzato leggermente il minimo dei giri solo che dopo era troppo alto quindi l'abbiamo riportata indietro e adesso finalmente è a posto quindi adesso è ri ritornata la matizia finalmente ho dovuto parcheggiare un po distante dal paolotti quindi ho un pezzettino di strada fare a piedi e adesso lezione finito con metodologia adesso si torna a casa lo zio ha fatto i tre mezzini ne avevo proprio bisogno grazie zio giusto per farvi capire questa è la fila di roba da studiare di metodologia ok metodologia più questo bel librozzo adesso mi metto un pochino sotto e studio un po va studiato un pochino adesso vado in palestra quello che mi consola è che dopo stasera finito allenamento la claudia mi aspetta andiamo a berci qualcosa insieme però prima allenamento finito di allenare in palestra lavato docciato pulito stirato profumato e tutto e adesso sto andando dalla salvatrice di questo vlog eccola qui sai che ho appena detto che sei la salvatrice del vlog di oggi sono arrivato al sessantesimo allora discorso è devi guardare devi guardare qua non devi guardare qua queste qua infatti adesso lo giriamo allora il discorso è che un paio di giorni che non ci sono grandi personaggi in questi vlog ah ok quindi sei un personaggio si sei un grandissimo personaggio perché io fino adesso non ho filmato niente quindi negli ultimi due vlog tipo i vlog di ieri è stata la stessa cosa ho filmato non ho filmato niente durante tutto il giorno e poi mi sono trovato alla sera a filmare a giudere pensieri che mi erano proprio di bella testa e non c'era niente di che non c'era una storia invece ho pensato che dentro una storia cioè che non esiste una storia con un personaggio solo cioè esistono ma sono storie tristi e quindi tu sei il mio personaggio di oggi bene dai quindi ti hanno allegrato la tua volta molto mi viene proprio di sempre grazie facciamo un nuovo premio giù grazie per avermi salvato il vlog comincia anche a piovere quindi è meglio andare a casa per oggi è tutto linea dello studio no cliccate mi piace iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani ciao